Rapinò un 15enne di Polla nel 2011, oggi è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Forni. A finire dietro le sbarre è stato un 26enne pregiudicato, anche lui come la sua vittima, residente a Polla. Le indagini dei carabinieri della locale stazione hanno accertato che fu lui, 8 anni fa, a rubare al ragazzino una catenina in oro e 50 euro, minacciandolo di morte con un'arma da fuoco. Il malvivente, all'epoca 18enne, conosceva la sua giovane vittima. Per farsi consegnare dal minorenne l'oggetto in oro e i soldi, lo spaventò con una pistola simile a quella utilizzata dalle forze dell'ordine e gli ordinò di non riferire nulla a nessuno. Nel corso delle indagini i carabinieri rinvenirono a casa del pregiudicato una pistola salve priva di tappo rosso. Fu accertato che si trattava dell'arma usata per l'atto criminoso. A 8 anni dall'episodio arriva l'arresto in carcere per rapina a carico del pregiudicato di Polla.